Simone Guerra al termine di Teramo, Feralpi Salò 2-2, è un risultato che lascia molta più amarezza in bocca degli ultimi, una vittoria che era praticamente fatta a 30 secondi dalla fine, anche meno forse. Sì, ci lascia una mano in bocca grande perché comunque abbiamo creato tantissimo, abbiamo fatto un'ottima partita sotto i punti di vista, anche a livello caratteriale, comunque non abbiamo mancesso nulla. Purtroppo è arrivato questo gol, questa è una situazione che si ripete da tanto tempo, e dobbiamo comunque continuare a lavorare e andare avanti come stiamo facendo, perché siamo sulla strada giusta, peccato per l'ultimo gol, però adesso pensiamo subito a Sant'Arcangelo che per noi è importantissimo. Sarà anche l'ultima partita casalinga del 2016 in casa, quindi anche un appello a tutti i tifosi di essere partecipi, venerdì alle 18.30. Sì, sappiamo che è una partita importante per noi, inizia il giro di ritorno e quindi dobbiamo avere l'appoggio di tutti, sappiamo come stiamo lavorando, sappiamo come ci stiamo approcciando alle partite, quindi un appoggio anche dei tifosi per noi sarebbe importante.